Ci siamo? Sì, sì. Buonasera. Mancano due nostri ospiti che per motivi di fatti di cronaca non ci sono. Fiorenza è dovuta ripartire da Perugia, è andata giù, sapete c'è stata questa grande tragedia nel mare, degli immigrati, 700 immigrati, è la più grande tragedia che ricordiamo nel canale di Sicilia, di morti che almeno possiamo documentare e raccontare, per cui Fiorenza ha dovuto prendere un aereo e andare giù in Sicilia, il procuratore Pignatone invece ha avuto altri problemi e si scusa di non essere presente, qui con noi, spero che io e Marco Lillo vi possiamo bastare per raccontarvi Mafia Capitale. Allora, vi racconteremo e vi parleremo di Mafia Capitale utilizzando anche delle foto che in parte sono state mostrate, ecco, forse ne vediamo già qualcuna, in parte sono state già mostrate, ma a colori è molto più bello anche perché è molto più bello parlare di questi personaggi guardandoli in faccia, perché a volte si immagina che sono dei personaggi di fiction, di film, che sono anche dei divi, invece sono dei personaggi molto squallidi. Con Marco Lillo abbiamo scritto Mafia Capitale, cioè il re di Roma, e ci siamo molto divertiti a scriverlo perché ci è dispiaciuto raccontare di certi aspetti che coinvolge la politica e la mafia, ma ci è dispiaciuto vedere la mafia che ha invasso già da diverso tempo il centro di Roma. E quando io parlo di mafia mi riferisco proprio agli atteggiamenti che sono stati riscontrati dagli investigatori, che sono atteggiamenti che hanno un metodo mafioso. Chi vive in Sicilia e in Calabria, in particolar modo in queste zone, conosce bene uno sguardo, un atteggiamento, un'imposizione, cosa significa e chi è. Ma soprattutto quando ci sono persone o imprenditori che si rivolgono a certi personaggi di un certo tipo per risolvere dei problemi, anche quello sappiamo cosa significa. Bene, a Roma c'era tutto questo ed era fatto da personaggi che la giudiziaria conosceva da diverso tempo. Ora una a una di queste foto che state vedendo scorrere qui su questo schermo ve le racconteremo con Marco, ve le descriveremo, vi descriveremo anche i personaggi. Non vi fate paura, non vi fate prendere paura da uno che ha un occhio solo, non è un disabile soltanto, è uno che sta a 41 bis in questo momento e si chiama Massimo Carminati. che alcune fiction l'hanno descritto come il nero e non è né un eroe né un mito, è soltanto un mafioso, così come la Cassazione nelle ultime settimane ha confermato. non so Marco, vuoi iniziare a parlare tu di questi personaggi? Questo che vedete ad esempio se ritornano, ecco, ad esempio questo signore qui, se lo vedete a Roma c'ha pure la coppola, non potete non pensare che non è un mafioso, infatti è uno che ancora non è accusato proprio di associazione a delinquere di stampo mafioso, si chiama Michele Senese, è un signore di origini napoletane ma che da quasi trent'anni sta a Roma e ha un piede fra il clan di Carminati alla Camorra, la sua specializzazione è il traffico degli uspefacenti, gestisce uno dei quadranti di Roma che è quello sud-ovest, attualmente purtroppo è finito in galera per omicidio e qui viene fotografato dopo aver incontrato un signore che si chiama Massimo Carminati lo incontra vicino a Corso Francia e hanno un'accesa discussione, questa foto viene fatta subito dopo dai Carabinieri del Rosso, subito dopo questo incontro con Massimo Carminati, per prenderci, Michele Senese è uno sì che ha origini con la Camorra ma è uno che ha trapiantato tutte quelle che sono le storie di Camorra, i fatti criminali e mafiosi a Roma e si è specializzato appunto come vi dicevo prima nel traffico di droga e non fa la guerra a Carminati, loro sono in qualche modo alleati, dico questo e poi Marco vi racconterà tutto il resto, perché quello che emerge, ma che emerge da fatti non soltanto giudiziari ma dal territorio, Roma, il centro di Roma che è delimitato dal grande raccordo anulare, perché fuori da questo anello d'asfalto ci sono le mafie tradizionali, c'è Ostia, c'è Latina, dove c'è l'Andrangheta, c'è Cosa Nostra, c'è la Camorra Vera, dentro il clan di Massimo Carminati insieme ad altri uomini fra cui Michele Senese ha mantenuto un proprio territorio dove nessuno si può permettere di muovere una foglia se non viene chiesto prima loro l'autorizzazione. Ecco, Michele Senese con Massimo Carminati non si sono mai fatti la guerra, in buona sostanza da quello che è venuto fuori nel territorio è che un imprenditore se aveva un problema si rivolgeva a Carminati, sapeva dove trovarlo, era una stazione di servizio in Corso Francia e questo imprenditore arrivava lì la mattina, lo trovava, se scorrono le foto lo vedete, sdraiato in una panchina di questa area di servizio dove incontrava tutti i suoi amici, clienti. Ma non era un benefattore, non è un benefattore Carminati, perché l'imprenditore andava lì, l'imprenditore riceveva il favore ma ne rimaneva vittima, rimaneva vittima del sistema mafioso che è messo in atto da Carminati, l'imprenditore diventava un imprenditore dell'impresa mafiosa Carminati e questa cosa è una cosa che noi vediamo in Sicilia e in Calabria, l'imprenditore che ha un problema si rivolge al mafioso, al capo mafia che gli risolve il problema ma poi deve lavorare per il mafioso. In Calabria fino a pochi anni fa, ecco questa è l'immagine, quello è Massimo Carminati sdraiato, scusate la qualità della foto però è fotografata da circa 800 metri di distanza per non essere visti, lui stava lì, c'è un immigrato che lavora nell'area di servizio e lui stava su questa panchinetta a ricevere i clienti. Molti dicono è uno straccione, no non è uno straccione, è uno che per l'accusa di cui risponde adesso sta a 41 bis di mafia, è la descrizione esatta. Perché? Perché fino a pochi anni fa in Calabria, sapete che in Calabria esiste l'Andrangheta, è una delle più grosse, anzi una delle più grandi organizzazioni criminali che c'è in Europa, uno dei capi mafia dell'Andrangheta aveva come punto di riferimento e come luogo ufficio per ricevere i propri clienti proprio un'area di servizio e in quest'area di servizio lui stava lì e riceveva le persone che avevano i problemi, un po' come ha fatto Carminati. Per cui se lo fanno in Calabria e se in Calabria ricevono un'area di servizio sono andranghetisti. Se invece lo racconti fotografandolo, ci sono anche dei video e lo fai a Roma, per molti intellettuali non è mafia. Perché è taccio poi? Perché è bello per molti intellettuali, anche giornalisti, raccontare da Roma o da Milano la mafia in Sicilia o in Calabria. Intanto tu stai a Roma e stai a Milano, quella è mafia e tu ci fai anche delle grandi pensate, stai lì e ti viene pure la commozione di dire oddio, la gente della Sicilia, vittima della mafia, l'omertà, in Calabria come fanno, ci sono gli omicidi. Quando poi ti raccontano invece che quella stessa mafia che non spara però ce l'hai accanto e sotto i tuoi piedi, dici ah no, questa non è mafia. Forse perché qualcuno di questi forse si è trovato a cena, forse si è trovato in contatto, forse si è trovato in affari con queste persone, forse perché li conosce. E allora per loro quello non può essere mafia, sono straccioni, oppure è un'altra roba. Invece purtroppo questa è la mafia. E mi dispiace che i romani se ne stanno accorgendo troppo tardi. Purtroppo Roma è vent'anni in ritardo nella cultura antimafiosa rispetto a Palermo e a Reggio Calabria. E questa, siccome la cultura che può dare un segno di contrasto, deve essere data da chi scrive, da chi informa. E questi giornalisti. Per questo abbiamo ritenuto con Marco Lillo di scrivere questo libro per raccontare con dati di fatto la mafia a Roma. Allora, io volevo fare un passo indietro e tornare all'inizio di questa storia. Questo libro si chiama Eredi Roma, anche in omaggio a un'inchiesta giornalistica fatta da Lirio. e vorrei sottolineare che gran parte delle fotografie che voi avete visto adesso, che ritraggono appunto i boss che parlano tra di loro e che organizzano reati, sono successive all'inchiesta giornalistica di Lirio. E quindi questo è un dato che ci porta, visto che stiamo al festival del giornalismo, nel pieno, nel cuore dell'attività del giornalismo che io prediligo, che è quella del giornalista investigativo. Quello che ha fatto Lirio, per riassumere un po' la sua biografia, è questo. Lui parte da Palermo, si occupa ovviamente di mafia e ovviamente occupandosi di mafia a fondo urta la suscettibilità di alcuni boss di primo livello come Luca Bagarella. arriva a Roma, anche per ragioni di sicurezza, già scortato, già con gli occhi dell'uomo delle stragi del 92-93, quindi il cognato di Totorrina, e appunto una persona normale, dico io, tra virgolette, a Roma si sarebbe goduto il cupolone, il colosseo, insomma le tante bellezze archeologiche della capitale, invece lui comincia a osservare con occhi da palermitano la comunità sociale e direi anche giornalistica romana e nota una stranezza. Cioè lui registra dei comportamenti che sono molto simili a quelli che ha visto a Palermo, etichettati come mafia, magari comportamenti posti in essere da persone senza la coppola o l'accento siciliano, ma che comunque in alcuni casi la coppola abbiamo visto poi c'è, però sicuramente comportamenti molto simili. Perché cos'è mafia? Mafia per la sociologia ma anche per il codice penale è un'associazione a delinquere diversa da quella ordinaria perché in sostanza riesce, mediante l'intimidazione è dovuta all'esistenza di un'organizzazione che è forte del suo nome, della sua presenza, della sua minaccia, riesce a controllare il territorio sotto il profilo economico e politico. Quindi la differenza rispetto ad un'associazione a delinquere semplice è che in quel caso tre persone si mettono d'accordo per fare rapine in banca piuttosto che per sequestrare delle persone, ma non c'è questo vincolo di intimidazione tra il territorio su cui opera questa organizzazione e le persone che ci vivono. Allora perché si dice che è mafia quella di Totò Rina, di Bagarella? Perché se un uomo che tutti sanno essere legato a Rina entra in un negozio e come dice nella famosa battuta di Sabina Guzzanti, uno di quegli sketch che rimpiangiamo tutti, che andavano in onda sulla Rai tempo fa, appunto entra in questo negozio, si guarda intorno e dice ma qui è tutto infiammabile e poi chiede un favore e quel favore gli viene fatto perché tutti sanno che quell'uomo ha alle spalle un'organizzazione che intimidisce soltanto col nome. Lirio registra qualcosa di simile sul territorio di Roma e tira fuori un'inchiesta giornalistica nella quale mette in copertina quattro persone e sostanzialmente li definisce i re di Roma. I quattro sono Massimo Carminati, Michele Senese, Casa Monica e Carmine Fasciani che domina su Ostia. Ora perché dico che questo ci porta nel cuore del giornalismo? Perché il giornalismo secondo me è non prendere dei verbali giudiziari e pubblicarli, non è copiare le intercettazioni, fare un taglio e incolla e farne un'inchiesta rubata alla magistratura e messa sui giornali ma è raccontare i fatti a prescindere dall'attività della magistratura, a volte utilizzando gli atti della magistratura come base ma facendo una propria inchiesta. Quindi Lirio cosa fa? Anticipa l'azione della magistratura e si prende una grossa responsabilità perché di quei quattro in quel momento, se non ricordo, tutti e quattro, tre su quattro erano liberi. Massimo Carminati aveva avuto dei grossi problemi con la giustizia, aveva un casellario giudiziale di cinque pagine e poi dovremmo analizzare il perché era libero e poteva stare seduto, stravaccato all'area di servizio a dominare Roma. Però era libero, era libero Michele Senese pur si è accusato di omicidio, era libero Carmine Fasciani che dominava su Ostia ed era libero probabilmente o entrava e usceva di galera anche Casa Monica. Fare una copertina di quel genere vuol dire assumersi una grossa responsabilità. Gli effetti di quella copertina noi li registriamo ex post nelle telefonate che sono trascritte da Erros e da noi raccontate nel libro, nelle quali si registra la reazione della società civile romana a quell'inchiesta. In sostanza Lirio dice a Roma, attenzione che c'è la mafia, dice che questi quattro sono i quattro che controllano il crimine a Roma e noi registriamo per esempio delle telefonate di persone che fanno parte della crema della società romana, per esempio il marito della presidente della Roma Calcio fino a pochi mesi prima di queste telefonate, Rossella Sensi, il quale dice al telefono, a una persona che gli dice bisogna stare attenti, hai visto la copertina dell'Espresso, dice ma magari c'è finisco su un libro, magari c'è finisco in un'inchiesta, quasi fosse un titolo di merito avere rapporti concarminati con quel mondo. Ci sono altri costruttori molto importanti come Daniele Pulcini che a Roma ha costruito interi quartieri che appunto commenta in senso negativo quello che è uscito sull'Espresso e aggiunge una serie di improperi contro Lirio che aveva scritto. Poi c'è la reazione di Carminati che conosciamo bene, dice che vuole fratturare non so quale parte del corpo di Lirio, dopodiché si interessa alla sua attività, cerca di capire come ha trovato queste notizie. Quindi c'è una reazione da parte del mondo criminale o dell'imprenditoria che conosce quel mondo. Non c'è nessuna reazione da parte della stampa, non c'è nessuna reazione da parte della politica, non c'è nessuna reazione da parte di quella che dovrebbe essere la società civile come viene denominata, il che dimostra secondo me che Roma non solo ha un problema simile a quello di Palermo ma non ha nemmeno gli anticorpi per lottare contro quel problema. Perché quando c'è qualcuno che si prende una responsabilità e un rischio e c'è una città intera che fa finta di non vedere, si gira dall'altra parte, questo espone ovviamente quella persona e lascia spazio a tutti quelli che sono vicini invece alla criminalità per comprendere che il potere è da quella parte. Quindi in qualche modo ci sono delle telefonate interessanti che noi riportiamo nel libro da cui emerge chiaramente che quasi quasi l'uscita di quella copertina, l'uscita di quell'articolo aveva rinforzato il prestigio della criminalità a Roma invece di danneggiarla. Da un punto di vista quindi della cronologia l'inchiesta giudiziaria era appena partita ma decolla dopo gli articoli dell'Espresso. Quando arriva a compimento questa inchiesta noi decidiamo di scrivere il libro perché appunto come sempre dopo la prima ondata di cronaca che copre pagine e pagine di giornali in cui raramente poi si capisce quello che accade perché vengono messe le intercettazioni più divertenti, quelle più piccanti ma raramente si fanno i collegamenti, si arriva a fare un ragionamento su quello che è accaduto realmente. noi pensiamo che il nostro dovere dei giornalisti sia quello di fare questi collegamenti e di mettere di fronte agli occhi dell'opinione pubblica nuovamente quello che per mesi, per anni hanno fatto finta a tutti di non vedere e quello che abbiamo cercato di fare in questo libro. Quando mi si chiede diciamo cosa è la storia di Mafia Capitale, la storia raccontata nel re di Roma, io dico che è una storia veramente inquietante perché copre tutti i settori della politica e dell'economia. Cioè la cappa che copriva la Capitale d'Italia secondo me era totalizzante, andava dalla sinistra al mondo dell'ambientalismo, al mondo vicino al Vaticano, vicino al mondo imprenditoriale legato alla cooperazione cattolica e finiva appunto a destra nel mondo ex fascista dal punto di vista politico. Dal punto di vista imprenditoriale in questo libro voi troverete citati, raccontati, affari in ogni settore, si va da rifiuti. Voglio ricordare alcune cifre, si è detto che Mafia Capitale non è mafia perché si occupa di piccolezze. Qualcuno ha sostenuto il bilancio di Roma è 2 miliardi di euro e qui parliamo di noccioline. Ecco noi un solo appalto che è quello dei rifiuti, della raccolta differenziata dei rifiuti valeva 40 milioni di euro e su quell'appalto con una turbativa avevano messo le mani le cooperative legate a questo mondo di Mafia Capitale. Poi ci stanno tutte le attività di ristorazione, tutte le attività di costruzione e quello che fa impressione è il meccanismo di penetrazione di Massimo Carminati e degli altri a lui vicini nel mondo imprenditoriale. È un meccanismo che come diceva prima Lirio è molto simile a quello che conosciamo per paesi come all'estero la Colombia piuttosto che adesso magari il Messico, in Italia in passato, adesso meno la Sicilia, la Calabria. Ora cosa accade? Facciamo un esempio concreto quando Lirio parla di asservimento dell'imprenditore all'organizzazione capeggiata da Carminati. Noi raccontiamo in questo libro la storia di un imprenditore che si chiama Cristiano Guarnera. Si tratta di un soggetto che ha un patrimonio di circa 200 milioni di euro la sua famiglia e in un bar che è questo che vedete adesso, il bar di Vigna Stelluti, va a incontrare Massimo Carminati e Riccardo Bruggia che sono il capo e il braccio destro muscoloso del capo, che è questo Riccardo Bruggia, un culturista passato noto per essere stato fidanzato di Anna Falchi. Allora cosa si dicono? Sostanzialmente lui ha un problema, ha dei montenegrini, mi pare che lo minacciano, ha bisogno di protezione e chiede appunto protezione a quelli che sa essere uomini di mano. La risposta che riceve da Carminati è sostanzialmente questa, noi non siamo più uomini che possiamo dare la protezione a te come si faceva una volta, ormai noi siamo cresciuti, noi dobbiamo fare un contratto un po' più ampio, noi ti diamo una serie di servizi e in cambio di questi servizi, cioè che includono anche la protezione, tu però ci devi fare entrare nelle tue attività. Sostanzialmente quali sono i servizi che vengono offerti? Li viene dato, perché poi ovviamente l'imprenditore accetterà, li viene dato un signore come guardia del corpo che quindi copre la prima esigenza che è quella della sicurezza fisica e personale, Matteo Calvio si chiama, definitolo spezza pollici, purtroppo non abbiamo una foto se no si comprenderebbe il perché, e viene messo quest'uomo come guardia del corpo al suo fianco. Poi lì si dice hai bisogno del movimento terra? Te lo diamo noi, c'è un'impresa che ha sede a Sacrofano nella villa di fronte a quella vicino a quella di Massimo Carminati e lui farà il movimento terra per te. Hai bisogno di, hai un problema con il Comune di Roma? Ci sono dei vincoli urbanistici che ti impediscono di costruire? Ci pensiamo noi. Tutto questo ovviamente inizialmente porta a questo costruttore essere felicissimo di aver fatto questo patto e ci sono delle telefonate in cui lui racconta questo Eden in cui si ritrova il mondo di Massimo Carminati. Lui ha un imprenditore che gli racconta dei suoi problemi con questi che lo minacciavano, dice io da questo momento sono diventato intoccabile, io cammina un metro sopra da terra a Roma, a me non mi tocca più nessuno. Poi dice io avevo un problema, dovevo costruire un palazzo di nove piani di fronte a Villa Panfili, una villa storica di Roma e non avevo le autorizzazioni, in tre giorni sono riuscito ad avere quello che al Comune di Roma, allora guidato appunto da Giannele Manno e poi dalla burocrazia che poi è quella che dà questi permessi, non ero riuscito ad avere in tre anni. Qual è il punto? Che a un certo punto la ruota gira e Massimo Carminati ha bisogno di lui. Gli servono sostanzialmente degli appartamenti da utilizzare per l'emergenza sociale, questo costruttore ha tanti palazzi, alcuni per la crisi invenduti nella zona di Selva Candida, Carminati gli chiede di dargli gli appartamenti invenduti e sfitti per metterli dentro gli immigrati e le altre persone disagiate perché possono trovare alloggio. Il business di Carminati qual è? Affitta l'appartamento a 700 euro al mese e subaffitta, tra virgolette, aggiungendoci dei servizi quasi inesistenti, al Comune quel posto però a persona a 35 euro al giorno, moltiplicate 35 per 5 e moltiplicate poi quello che viene che sono 150 euro circa per 30 e vedrete che c'è un guadagno notevole, esponenziale di Mafia Capitale, cioè di Salvatore Buzzi che è il socio, il rosso, l'abbiamo definito noi se Massimo Carminati è il nero di questa cooperativa e lui aveva quindi un guadagno enorme. Il costruttore non aveva nessuna intenzione di aderire a questa offerta perché avrebbe svalutato i suoi palazzi, è chiaro che anche se è brutto dirlo, se in un palazzo arrivano famiglie disagiate, degli appartamenti ancora non venduti, accanto ad appartamenti appena venduti a prezzi molto alti, il contesto economico, commerciale fa sì che quegli appartamenti perdano di valore e quindi ovviamente il costruttore non voleva fare questo perché aveva paura poi di non vendere quello che gli era rimasto. Quando Carminati gli fissa l'appuntamento con Buzzi lui non ci va ed è molto interessante sentire quello che accade dopo nelle telefonate che noi raccontiamo nel libro. L'imprenditore viene vessato, viene minacciato, viene tartassato da una serie di telefonate di tutti gli sgherri che gravitano intorno a Massimo Carminati al punto che si deve prostrare, deve chiedere scusa in ogni lingua a tutti, deve comportarsi come nemmeno un servo nei confronti di quest'uomo che viene visto come un remida che è inavvicinabile e però pericolosissimo. Ottiene il perdono e finalmente può essere riammesso alla Corte. Ovviamente la fine della storia qual è? Il patrimonio di Guarnera e famiglia, cioè questi 200 milioni di appartamenti, terreni, è stato completamente confiscato, per ora sequestrato poi la confisca arriverà con le sentenze successive e ovviamente questa è una storia positiva perché se quell'imprenditore avesse chiamato la polizia invece che Massimo Carminati che funge da vice o meglio da sostitutivo, non da surrocato, da sostitutivo vero e proprio dell'attività della forza pubblica a Roma, ecco se lui avesse scelto di chiamare la polizia invece di Carminati oggi avrebbe ancora 200 milioni di patrimonio e invece si trova in carcere con il patrimonio sequestrato, il suo e quello dei suoi familiari. La storia che vi ho raccontato accade nel centro di Roma, in uno dei quartieri più belli, Monteverde Vecchio e non a Brancaccio o a che so, i metodi sono lo stesso, i metodi sono esattamente gli stessi, perché non la si riconosce come mafia? Perché i protagonisti non parlano siciliano e non hanno probabilmente anche i magistrati o gli investigatori che hanno affrontato in passato questi fenomeni la cultura per riconoscerla. Io penso che questo è stato un merito di Lirio, quello di avere i codici giusti per interpretare questi comportamenti, raccontarli e probabilmente accendere il faro su una realtà che rischiava di crescere ancora a lungo. Sì, perché la cosa, adesso passiamo a vedere queste foto e ve le raccontiamo una a una, così avete un'idea. Quando ho iniziato nel 2012 a contattare alcune fonti che conoscevano bene Carminati, una delle cose che mi raccontò immediatamente è il fatto che non ci sarebbero stati omicidi, che dentro al grande raccordo anulare non ci sarebbero stati omicidi ricollegabili alla mafia, rispetto al 2011 dove c'erano stati 10-11 omicidi all'interno di Roma. Da quel momento in poi non ci sarebbero stati omicidi, perché Carminati insieme ai suoi altri colleghi fra cui Senese e altri avevano deciso di non commettere più delitti perché stava per arrivare un nuovo procuratore alla procura della Repubblica di Roma che è Giuseppe Pignatone che conoscevano per i fatti e per il suo enorme contrasto all'andrangheta che aveva attuato a Reggio Calabria per cui loro, almeno la mia fonte, mi raccontava che loro si erano riuniti e per impedire l'avvio di nuove indagini non dovevano più commettere omicidi all'interno del grande raccordo anulare, non solo, ma non avviando omicidi per cui non vedendo per le strade il sangue tutti quanti voi dimenticate la mafia, tutti quanti voi non avete più paura, tutti quanti noi non ci pensiamo più che ci può essere un pericolo di criminalità, non c'è, passa a tutti, prima di tutti alla politica, per cui è da quel momento non c'è stato più nessun delitto riconducibile alla mafia dentro il grande raccordo anulare. Questa cosa che ho scritto in quell'inchiesta del 2012 poi è stata confermata nelle intercettazioni che hanno fatto successivamente nel 2013 in cui c'erano persone che si rifacevano e ricordavano quello che era il patto di nessun delitto doveva essere commesso dentro o al centro di Roma. Bene, qui vi abbiamo portato delle foto, quello di spalle naturalmente perché era diventato un idolo che è con gli occhi di Diabolik e Massimo Carminati, perché anche lui si sentiva, perché il romanzo criminale lo aveva fatto diventare un mito, se parlate con i ragazzini diciamo di Roma in alcuni quartieri, i cattivi di romanzo criminale sono degli idoli purtroppo. quello che vedete alla sua sinistra con la felpa Bordeaux è Bruggia, che è il suo braccio destro, l'uomo di forza, ha un viso molto angelico, è una persona distesa, è un suo consigliere diplomatico e alla destra è una delle persone che loro incontrano apertamente senza mettersi da parte, qui è nella zona dei Parioli e loro fanno degli incontri, che se questa foto fosse stata scattata a Brancaccio o in uno dei quartieri che conosciamo di Palermo o della Calabria, c'è mafia, siccome è Parioli non si può dire che questo sono in tre, bastano in tre a fare un'associazione per delinquere, questo è un incontro, un summit o comunque una comunicazione che Carminati insieme a Bruggia stava dando a quest'altra persona. Se passiamo all'altra foto, ecco vedete i modi pacati, sono molto leggiadri, Carminati vuole accarezzare quella persona, Bruggia dice non ti preoccupare, è tutto a posto, è sempre questo incontro che fanno ai Parioli. Se passiamo all'altra foto, ecco qua adesso anche voglio l'aiuto di Marco, però è una foto che di spalle vedete Massimo Carminati mentre parla con un signore con gli occhiali di fronte che si chiama Salvatore Buzzi, è il rosso e il nero. Salvatore Buzzi arriva da origine del partito comunista, Massimo Carminati ha un passato di estremista di destra, anche in questa Perugia è stato imputato di furto, di furto, furto nel cavò della banca di Roma che è nella cittadella giudiziaria di Roma e poi ha avuto pochi anni di condanne, subito con l'indulto e d'altro subito scontate. Salvatore Buzzi è il patron delle cooperative sociali di Roma, qui sta parlando con lui, se vediamo la foto successiva, guardate che cosa hanno in mano, si legge, che si legge? Capitale? Può essere Roma Capitale, è una delle cartelline del comune di Roma dove Buzzi ha un giro d'affari con le sue cooperative che arriva a 150 milioni di euro, mica roba da poco. Gli investigatori del Rosso insieme alla procura hanno scoperto che Carminati è di fatto un socio di queste cooperative, entra in affari, Buzzi lo fa entrare in affari, il rosso fa entrare il nero in affari, perché come lo stesso Buzzi racconta in un'intercettazione alla moglie che gli dice ma come, ma tu stai con un fascista, oppure quando lo rimprovera dice ma tu stai appoggiando alle mani alle elezioni, ma sei impazzito, e lui ha detto vabbè non ti preoccupare, gli ho dato riferimento di quattro mafiosi giù in Calabria, se lo vedono loro. Ma poi Buzzi spiega alla moglie, dice ma attenzione, quando si tratta di affari il colore politico non ha più importanza, contano i soldi, il rosso e il nero fanno affari insieme e gestiscono gli appalti. E qui è eclatante, se fosse il racconto di un collaboratore di giustizia che dice guardate ho visto Buzzi che è un comunista, insieme a Carminati che è un estremista di destra, con in mano leggevano le carte di Roma capitale, tutti quanti noi avremmo detto vabbè ma questo è il solito pentito, pilotato dai magistrati politicizzati eccetera, qui c'è la foto, ci vogliate credere o meno, è così, non c'è fotomontaggio. Andiamo all'altra, ecco, come diceva prima Marco, in questo de'ordel di un bar di Villa Stelluti che è sempre vicino a Corso Francia, in questo angoletto Carminati che è il primo a destra incontrava i suoi fidati collaboratori. Faccio una parentesi perché i romani queste cose le devono anche sapere ma anche le altre persone. Carminati dal momento in cui è stato scarcerato fino al giorno del suo arresto, sono passati circa dieci anni, all'agenzia delle entrate risulta in tutti questi dieci anni che lui ha dichiarato al fisco circa 5.200 euro. Ora, siccome io penso che con tutto il tenore di vita che aveva Carminati, e cioè un tenore di vita elevatissimo, 5.200 euro di reddito in dieci anni è un po' pochino, anche perché per mantenere il figlio a Londra dove lo ha mandato per curare i suoi affari, dove lui ha acquistato immobili, dove ha acquistato attività commerciali nella city e poi a un certo punto, calmate le acque eccetera, ha preso il figlio e gli ha detto senti una cosa, adesso ti devi specializzare, l'ho preso e l'ho apportato a Milano dove gli ha acquistato una casa e a Milano è andato perché il figlio stava facendo attualmente un master in Bocconi, specializzato in economia e finanza, naturalmente, ma attenzione ci vogliono dei soldi per sostenere queste cose. I romani non so se si chiedevano ma dove li prende questi soldi calminati? Tutti in beneficenza. Allora qui in questo deordere di questo bar lui faceva quasi ogni giorno questi incontri e parlavano di un sacco di cose, parlavano di politica, parlavano di affari, di appalti, di persone da mettere nei CDA, dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate di Roma e di altre storie criminali che sono state tutte intercettate, registrate e fotografate dagli investigatori. Se vediamo avanti? Ah ma qui ci sono dei personaggi che... Allora il primo a destra è Massimo Carminati che ci dà le spalle, a sinistra con la giacca, questa saariana, un po' robusto, si chiama Dio Tallevi. Dio Tallevi è romano ma ha una grande esperienza, un grande passato con Cosa Nostra siciliana, con Pippo Calò che era il cassiere della mafia si davano del tu, erano compari, perché aveva tenuto a battesimo Pippo Calò quell'altro uomo con completo scuro, che è il figlio di Dio Tallevi. Per cui i due Dio Tallevi che parlano con Massimo Carminati, sempre nella zona di Corso Francia, appartati in una zona dove secondo loro non erano visti da nessuno e si incontravano. Dio Tallevi è uno che a Roma vive in un grande appartamento, ma lì Marco vi può dire meglio di me, un grande appartamento è circa 200-300 metri quadrati, che è di fronte alla Fontana di Trevi e in questo appartamento lui ci vive da diverso tempo dietro a Levi, come vi dicevo, ha avuto un trascorso di collegamenti fra criminalità organizzata romana e Cosa Nostra, Cosa Nostra sapete, è siciliana, la mafia siciliana che si è spostata, alcuni loro membri si componenti si spostarono a Roma e con lui legarono moltissimo a fare degli affari. In mafia capitale giudiziariamente Dio Tallevi non è coinvolto, non è indagato, né lui né il figlio, però di tanto in tanto Dio Tallevi parlava con Carminati, chissà di che cosa. Andiamo alla foto successiva, adesso ti passo la parola però, perché quello sempre a sinistra, forse c'è un'altra foto successiva rispetto a questa, ecco, quella vediamo meglio, quello a sinistra è il signor Carminati, quello a destra si chiama Giuseppe Ietto, io adesso ti dico chi è e poi magari lo racconti tu. Allora, questo è un incontro che loro fanno fra il signor Carminati e Giuseppe Ietto è un imprenditore romano, è un imprenditore romano che a noi è piaciuto mettere in questa foto per farlo vedere anche in faccia a tutti quanti, perché quello che aveva in gestione, perché è amico, perché è da tutta una serie di favori da Carminati, i bar delle sedi RAI di Roma. Bar che purtroppo lui, perché uno può dire sì, la mafia dà lavoro, la mafia dà posti di lavoro, ma a un certo punto però bisogna pur capire che posti di lavoro dà, perché a questi dipendenti non pagava nessun contributo, anzi molti dipendenti erano sottopagati e altri non messi in regola. E allora a questo punto, un attimo che passa Ietto con il tamburo, a questo punto quando è arrivata l'amministrazione giudiziaria, perché sono stati sequestrati questi bar, cioè la gestione dei bar, l'amministratore giudiziaria si è trovato in grandi difficoltà, perché i dipendenti non erano messi in regola, non c'erano i conti a posto, dice ma scusa, ma sta mafia poi, ma che lavoro dà? Dà un lavoro che non è proprio di grande legalità. Però ci sembrava giusto far vedere la faccia di Giuseppe Ietto, tanto che a un certo punto, per un periodo, adesso non so se ci sono dei colleghi della RAI, i bar della RAI sono stati chiusi a Saxa, Ruben e altri posti perché non arrivavano più alla gestione. Nella foto successiva, l'abbiamo visto prima, Massimo Carminati durante le sue ore di lavoro, è su questa panchina, è il suo posto, è dove lui riceveva ogni mattina. Prima andava nel negozio della moglie che era di fronte, un negozio di abbigliamenti, piccolo in Corso Francia, attraversava la strada, faceva colazione nel bar dell'area di servizio e poi si sdraiava lì sulla panchina e aspettava che i suoi compari lo andavano a salutare e poi aspettava i clienti per risolvere i loro problemi. La foto successiva? Eccola. Questo è quell'incontro che vi raccontavo prima, ma il problema, attenzione, tutte queste foto sono foto reali, non è il grande fratello, cioè non è la fiction che siamo abituati a vedere in tv, sono foto reali. Massimo Carminati col braccio puntato, il dito puntato contro, vedete sulla destra, si vede che dalla coppola, Michele Senese, accompagnato dall'autista, De Pau, questo giovane con la camicia bianca. Cioè questi sono due dei quattro che erano messi nella copertina di Lirio, due mesi dopo mi pare, più o meno. Sì, due, tre mesi dopo che li avevo raccontati, perché fino a un certo punto io per un periodo ho raccontato dicendo guardate che a Roma non la dovete immaginare ancora la mafia con la coppola, la lupara. Cazzo, Michele Senese si è messo la coppola proprio per far, si è meglio riconoscere, ma nessuno lo vedeva. Infatti, quando ho visto queste foto ho detto guarda, proprio con la coppola si è fatto, nessuno lo vuole riconoscere. Qui si incontrano, nell'intercettazione, nel libro raccontiamo questo incontro perché c'è qualche cosa che non va fra Senese e Carminati. A Carminati non va giù un atteggiamento di Michele Senese, si incontrano e poi da queste foto, ma anche dalle intercettazioni, si capisce che i due hanno in qualche modo avuto un'accesa discussione. E qui per strada Carminati lo ha dita contro. Andiamo alla foto successiva. E qui è la discussione. Sono due signori garbati, modesti, appartati in un luogo sempre di Corso Francia, che discutono se avessimo detto Brancaccio, ci avreste creduto alla mafia. Ecco, vedete due mafiosi di Brancaccio? Sì, direbbe qualche giornalista di Roma che ogni tanto fa degli speciali sulla mafia, vedete? Sono due signori che vedete lì a Brancaccio, in questo quartiere dove sono stati uccisi poliziotti, è stato ucciso un prete, ecco due che si incontrano, fanno un summit di mafia. Ma siccome è vicino a Corso Francia, la mafia non ci può essere. Michele Senese alla vostra destra, con la coppola, l'aggravante e Massimo Carminati. Andiamo avanti. Questa è la discussione di cui vi dico, vedete, Senese si è dovuto presentare al cospetto di Carminati accompagnato da un'altra persona, perché o aveva paura o comunque non poteva reggere il confronto, perché Carminati è uno violento. Cioè in giro, per Roma, io quando ho fatto quell'inchiesta, all'inizio le mie fonti avevano paura addirittura a pronunciare il nome di Carminati, facevano così, si tappavano l'occhio, oppure sussurravano il nome Carminati proprio a bassissima voce, perché avevano molta paura, e sanno di quanto è capace della violenza di cui è capace. Un po' come se vai in Calabria e parli di alcuni boss, o in Sicilia parli di altri, sai di che violenza sono capaci. La stessa cosa succede a Roma, è per questo quando Carminati manda, chiama un suo amico in Campidoglio, che giusto giusto era stato messo nella segreteria del sindaco, e dice guarda adesso viene un mio amico, quello si fa spaccare le gambe in due, scende le scade del Campidoglio, raggiunge questo suo amico e dice tutto è pronto, tutto è fatto, i soldi per questi lavori ti saranno dati subito. è proprio perché, non è che lo fa perché sono simpatici o sono innamorati, lo faranno perché sanno la caratura criminale del personaggio. Ma per vedere queste cose, purtroppo io vi invito, bisogna avere un fattore culturale, bisogna allargare la testa e andare avanti con un discorso purtroppo antimafioso, non dobbiamo restare relegati a quella mafia che i film o certe immagini ci legano purtroppo alle stragi, ai delitti, a certe scene del film del padrino. Oggi è tutt'altro, oggi è cambiato, perché se voi pensate, e lo ripeto diverse volte, che nel 2014, cioè un anno fa, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 a Palermo, dove sono stati uccisi magistrati, dove sono stati uccisi poliziotti, carabinieri, giornalisti e sindacalisti, lo scorso anno c'è stato un solo omicidio, uno omicidio riconducibile alla mafia. Questo non significa che la mafia è stata sconfitta, anzi è più forte di prima, perché si infiltra, si insinua nell'economia locale, nell'economia legale e si insinua nella politica locale e regionale, che è quella che dà appalti, dove puoi fare i grandi affari. Non è il Parlamento, il Senato, sì, lì ci sono altre situazioni, ma al Comune, alla Regione, sono le stazioni appaltanti dove tu puoi ottenere grandi affari, puoi ottenere grandi lavori. E tu devi guardare la mafia adesso in maniera diversa. Massimo Carminati l'ha fatto purtroppo perfezionando una banda, si chiamava banda della Magliana, banda, no mafia della Magliana, banda, in organizzazione criminale organizzata, che è la mafia capitale. Ha perfezionato una banda in un'organizzazione criminale organizzata, facendo una cosa, perché nell'intelligenza di questo uomo, perfezionando gli errori commessi dai suoi compari di Cosa Nostra e dell'Andrangheta. Ha perfezionato gli errori e ha perfezionato un'organizzazione. E lui, se non fosse stato che c'era dei magistrati impegnati, con un'ottica diversa, degli investigatori capaci, una tecnologia evoluta, avrebbe ancora oggi prosperato in grandi affari. Andiamo alla foto successiva. Per questo vi chiedo di mettere un'ottica diversa, una lente diversa. E la lente e l'ottica vi è data anche dalla cultura. Perché oggi, oggi la mafia la combatti con la cultura, non la combatti con le leggi, non la combatti soltanto con l'azione giudiziaria. L'azione giudiziaria ci vuole, ce ne vuole tanta. Ma se non c'è una cultura antimafiosa del dire no, questo non lo faccio perché è illegale, non ci sarà mai un'azione antimafia capace di poter risolvere un problema come quello che è nato a Roma. Perché noi saremo sempre dei caproni che non vedremo la mafia e andremo sempre a favorire questi mafiosi. In questa immagine c'è Massimo Carminati sulla destra, che parla con un uomo non identificato che sta al centro e il suo consigliere diplomatico sulla sinistra che bruggia. Ma la cosa carina di questo incontro è dato al fatto che arriva sempre a Roma Nord, si svolgono questi incontri, che tutto si svolge sotto un cartellone elettorale molto simpatico. Vediamo se nella foto successiva si vede meglio. Anche questo non è voluto dagli investigatori. Il povero storace che sta a guardare questi incontri non può far nulla. C'è una roba chissà come ci sarà rimasto male. Carminati è sulla sinistra, al centro c'è questo uomo che è di spalle non identificato, poi bruggia è questo col cappellino. Sono incontri sempre appartati, fatti in certi luoghi, ma questa foto è così, era sintomatica. Vediamo l'altra. Ah, qui per vederlo un attimo in faccia questo Carminati. Perché bisogna anche un attimo identificarle queste persone. Perché si vedono in vecchie foto segnaletiche o nelle foto durante il giorno, nella notte dell'arresto magari non si ha una buona impressione, così magari uno lo identifica meglio. Così come vorremmo farvi identificare gli altri, se c'è nelle foto successive. Ecco. Quello sulla sinistra, De Carlo, è stato appena scarcerato. Un uomo che in alcune intercettazioni di Otallevi dice che è il futuro boss di Roma. Però poi ha detto... no, stavo scherzando. Stavo scherzando. Tendeva a dire che è il più grande playboy di Roma. Sì, dice che a casa sua ha ospitato Belen, ha ospitato altre Starlet, a Piazza Cavour, al numero 10 di Piazza Cavour, in questo edificio molto bello, un grande appartamento, che lui abita lì, ufficialmente non si capisce che lavoro faccia, gira in Ferrari e in Bentley, ospita, perché questo lo sappiamo dalle indagini Belen, poi altre attrici, l'attuale fidanzatina del figlio di Berlusconi, mi pare. Però è uno che è un amico per sempre, perché se tu hai un problema alle tre di notte, come è successo al calciatore della Roma De Rossi, in una discoteca, De Rossi che non sa fare il 113 o 112, però sa il suo numero di cellulare, memorizzato sul cellulare, l'ha chiamato e ha detto abbiamo qui un problema e lui si è messo subito a disposizione. Qui sta parlando con un imprenditore che si chiama Fabio Rossi, mi pare. Rosso, rosso. Vabbè, era così tanto per far vedere la faccia di De Carlo. Vediamo l'altra. Ah sì, questo è l'incontro precedente di Otallevi e Carminati, ci eravamo scordati Bruggia, perché non sia mai che non ci sia. Vediamo quella successiva. Questo è Michele Senese. Vediamo se ce n'è un'altra. Non ce n'è più. Comunque, in buona sostanza, questi sono alcuni dei personaggi di Mafia Capitale e alcuni dei personaggi che hanno arricchito le intercettazioni, perché, vedete, rispetto alle indagini che si facevano vent'anni fa, quindici anni fa in Sicilia, è un'indagine particolare, un'indagine nuova, che non presenta collaboratori di giustizia. Cioè non c'è un collaboratore di giustizia. Le uniche fonti d'accusa sono le intercettazioni, sono le stesse conversazioni dei protagonisti, cioè degli indagati. Sono loro stessi che si autoaccusano, sono loro stessi che svelano certi retroscena. Perché? Perché gente come Carminati e i suoi complici erano convinti di essere al di sopra di tutto, che potevano fare tutto e che nessuno le avrebbe mai toccati. Anzi, potevano parlare ovunque e non essere intercettati. Addirittura, a volte, quando sospettavano che ci poteva essere qualche microspie, arrivavano con un attrezzo per cercare le microspie, cercare di bonificare l'ambiente. Ma la tecnologia, siccome è più avanti rispetto a quello a cui loro erano abituati e sono abituati, li hanno intercettati, registrati, filmati e fotografati, e quelle loro stesse parole sono finite in galera con l'accusa di associazione mafiosa. Ecco, questo nel libro Il Re di Roma, che con Marco abbiamo scritto, abbiamo messo come base queste intercettazioni, non tanto per spiare dal buco della serratura, perché Marco diceva bene prima, a noi non ci serve l'intercettazione perché poi ci dobbiamo... a noi ci serve l'intercettazione per ragionare, a noi ci serve sapere o conoscere un collegamento, una frase, un contatto, perché noi siamo giornalisti e non siamo investigatori e noi vogliamo analizzare, ragionare, aiutare a ragionare i cittadini. Perché per noi è importante che questo accada, è importante sapere che se c'è un signore, un imprenditore che regala un Rolex da 20.000 euro al figlio di un ministro, per noi è importante, perché è una rilevanza sociale, non lo potrà avere magari una rilevanza giudiziaria, per noi è una grande rilevanza e deve essere raccontata e deve essere fatta. Ovviamente è giusto ricordare che se passasse la proposta di riforma sulle intercettazioni, che peraltro rischia veramente di passare questa volta, perché a proporla non è il centrodestra, non è Clemente Mastella, che era appunto ministro allora, ma non è nemmeno Antonio Di Pietro, che pure l'appoggiò, ma non è nemmeno Alfano, ma è appunto Matteo Renzi, quindi il nuovo che avanza, che riesce a fare quello che il vecchio non riusciva a fare. Quindi paradossalmente lo stesso provvedimento, per alcuni aspetti anche peggiore, proposto da Alfano, non incontra un'opposizione che invece ricordiamo tutti, voi ricorderete quando Repubblica pubblicava i post-it gialli e diceva no al Bavaglio, e oggi non c'è quella mobilitazione. Bisogna dire che anche da parte delle procure, da parte dei magistrati, purtroppo non è potuto essere qui con noi Giuseppe Pignatone, un magistrato che io stimo e al quale dobbiamo questa indagine, che ha ripulito Roma, però va detto che anche la magistratura, nelle audizioni che sono state fatte in Commissione Giustizia nei giorni scorsi, i maggiori procuratori italiani, quindi quello di Milano Edmondo Bruti Liberati, quello di Roma Pignatone, quello di Palermo Lovoi, in coro hanno detto sostanzialmente sì a questa riforma e la mia sensazione è che in qualche modo hanno buttato a mare i giornalisti e i lettori purtroppo, i cittadini, per salvare se stessi, cioè se stessi nel senso il potere di intercettare. Quindi la posizione della magistratura è diventata lasciateci la possibilità di fare le intercettazioni, poi se volete non fatele pubblicare ai giornali, quindi il compromesso raggiunto che questa volta realmente rischia di diventare legge è che potranno essere fatte queste intercettazioni, però dovranno essere soltanto quelle contenute nell'ordinanza di arresto a essere pubblicate. Quindi per fare degli esempi concreti, non avremmo mai potuto pubblicare l'intercettazione telefonica nella quale Maurizio Lupi telefona a Ercole in calza chiedendo di incontrare il figlio, e quella successiva di Perotti, l'ingegnere, che poi offrirà il lavoro a un neolaureato brevissimo come è il figlio di Lupi. Non potremmo pubblicare le intercettazioni in cui il figlio di Lupi dopo aver ricevuto un orologio da 10.000 euro ringrazia Perotti come nemmeno io e mio figlio permetterei di ringraziare per un cioccolatino, insomma in due battute, grazie, 10.000 euro, così le sono passati, che sia o meno un'intercettazione dal punto di vista del costume sociale, di quello che significa molto più importante di altre che sono penalmente rilevanti e che è giusto quindi che vengano pubblicate. Quindi non avremmo potuto pubblicare se non quelle messe nell'ordinanza. Allora cosa vuol dire questo? Lo dico anche se non c'entra molto con l'argomento di oggi, ma è per me un tema molto importante per la democrazia italiana. Questo vuol dire che il potere di decidere cosa pubblicano i giornali passa dalle mani dei giornalisti alle mani dei magistrati. E questo vuol dire che viene a mancare il potere di controllo dell'opinione pubblica anche sull'attività della magistratura, che può essere, come in questo caso, positiva, ma in altri casi può non esserlo. Ci sono tanti esempi di casi in cui il deposito di tutti gli atti, che sono quindi conosciuti e conoscibili, non più segreti, e pubblicati dai giornali, ha permesso di fare un controllo sull'attività della magistratura, che magari era carente, che magari non ha proceduto dove doveva. Questo non potrà più essere fatto. Tutto quello che noi abbiamo scritto nel libro, per esempio, non è necessariamente contenuto nell'ordinanza. C'è un intero capitolo, che è quello dedicato alla cooperazione, quindi cooperative rosse come la 29 giugno di Salvatore Buzzi, cooperative bianche come la Cascina o la Domus Caritatis vicino al Vaticano, fondazioni o associazioni verdi, diciamo, vicino al mondo ambientalista, che fanno affari insieme. Di tutto questo soltanto Buzzi, solo la cooperazione rossa, finora è stata colpita dagli arresti. Non sono nemmeno indagate le cooperative bianche, quelle vicine al Vaticano, e ci sono delle intercettazioni che noi pubblichiamo nel libro, che abbiamo potuto pubblicare perché c'è una legge oggi che ce lo permette, che non sono nell'ordinanza, ma sono negli atti depositati a disposizione degli avvocati, che secondo me sono interessanti. Cioè, leggendo il libro, magari qualcuno di voi potrebbe domandarsi ma perché non si procede anche contro le cooperative vicine al Vaticano, visto che ci sono intercettazioni in cui Luca Odeven, ex capo di gabinetto, vice capo gabinetto di Walter Veltroni, sindaco di Roma, poi capo della Polizia Provinciale con Luca Zingaretti, presidente della provincia per il PD, e poi nel tavolo dell'immigrazione al Ministero degli Interni, chiede più soldi alle cooperative dicendo però lui stesso io prendo 10.000 euro al mese perché ho fatto un favore a una cooperativa ben precisa vicina al mondo cattolico. Ecco, voi, leggendo quel, vi potete fare un'idea che forse magari ci vorrebbe un'indagine anche su quel fronte lì. Nel libro noi questo lo scriviamo, intervistiamo, partendo da questa intercettazione, chi parlava in quella intercettazione, gli poniamo delle domande, ma lei perché quando questa persona dice che voi la pagate e gli date 10.000 euro al mese, lei non dice ma cosa stai dicendo, ma anzi rimane lì a parlare con lui, forse è vero, allora, ecco tutto questo che non è reato per ora, ma magari lo sarà domani, vorrei dire, voi lo potete sapere, cioè potete controllare anche la procura che magari potrebbe fare un'indagine su quel versante che ancora non è stata fatta. Questo è un controllo democratico dell'attività della magistratura che verrà a mancare. Ovviamente l'altro aspetto è quello che, poiché noi giornalisti verremo comunque a conoscenza di questi fatti, e l'unica pena sarà la pena pecuniaria, perché ovviamente non vogliono arrivare al punto di metterci in galera perché pubblichiamo l'intercettazione del Rolex del figlio di Lupi, quindi dicono, tu giornalista non la devi pubblicare, se la pubblichi do una multa al tuo editore. Conseguenza concreta. Facciamo un'ipotesi. Allora, secondo voi, l'intercettazione di Massimo D'Alema o di Bersani che parlano di Unipol, di fronte all'ipotesi di pagare una multa di 50.000 euro, il giornale sotto campagna elettorale nel 2006 l'avrebbe pubblicata o no Berlusconi? Cioè avrebbe rischiato di pagare 50.000 euro oppure no? Io penso proprio di sì. Altra domanda, un'intercettazione simmetrica in cui a dire abbiamo una banca e, che so, Salvini alleato di Berlusconi un domani la pubblicherebbe Berlusconi? No, avrebbe la possibilità di dire al proprio giornalista no, mi dispiace, la legge me lo vieta, non posso, devo pagare 50.000 euro, non la pubblico. E poi ancora, giornali come il mio, Il Fatto Quotidiano, quindi parlo per me stesso, che, diciamo, vive di vendite, non ha alle spalle imprenditori che finanziano anche in perdita un giornale soltanto per interessi laterali. Quante multe potrebbe prendere? Prima di chiudere, ecco, sono domande che forse prima ancora che noi, che difendiamo ovviamente il nostro interesse dei giornalisti, a informare, dovrebbero essere ben presenti anche alla pubblica opinione che non ha presenti i meccanismi che ci sono dietro l'informazione. Anche perché poi si pone un problema. Il giornalista ha un diritto di cronaca, ma anche un dovere di cronaca, per cui nel momento in cui io ho in mano l'intercettazione di Lupi, che chiede il lavoro per il figlio, ha in calza, o che parla del lavoro del figlio con in calza. la legge immediata di pubblicarla, ma il codice, la carta dei doveri del giornalista, al primo articolo, dice che tu hai il dovere di pubblicare una notizia quando ne viene a conoscenza, che faccio io? Rispetto alla legge? Io, per me, la violerò volentieri, questa legge, ma quanti altri giornalisti lo faranno? Queste sono le domande. La cosa è incredibile che sono domande che non si pone nessuno, perché a proporre questa riforma, secondo me, liberticida, dal punto di vista dell'informazione, è un governo di centrosinistra, il primo governo di centrosinistra che può disporre di una maggioranza del 40%, del 48% quanto ha preso Matteo Renzi alle elezioni europee. E questo non è che mi fa stare più tranquillo, ma mi fa essere più preoccupato. Tornando al discorso dei re di Roma, io vorrei tornare, se è possibile, se siamo ancora in possesso della chiavetta con le foto, alla fotografia in cui si vedono Salvatore Buzzi e Massimo Carminati che discutono. Perché, secondo me, abbiamo raccontato bene il personaggio Massimo Carminati e abbiamo un po' tralasciato il rosso di questa storia, Salvatore Buzzi. Nel libro è così composto, c'è una prima parte dedicata prevalentemente al nero, poi c'è la parte dedicata al rosso, poi c'è la parte dedicata da quello che io chiamo Il Verde, cioè l'ex portavoce di Lega Ambiente, Luca Odeven, e poi alla fine facciamo un volo anche sulla questione che poi magari ne parliamo di Francesco Totti e della Cascina, la cooperativa vicina al Vaticano di cui parlavamo prima, Comunione e Liberazione. Allora, ecco, questa foto ci permette di vedere questa scena. Quello che diceva prima Lirio è verissimo, se questa scena qua fosse stata proposta da uno sceneggiatore, da un aspirante sceneggiatore al produttore di romanzo criminale, la fiction, anche se la fiction è un romanzo criminale perché la vede diciamo, certo, non è molto aderente alla realtà, cioè va molto oltre la realtà, però gli avrebbe detto probabilmente che questa è una scena eccessiva. Allora, cosa vediamo? Vediamo Il Nero di romanzo criminale, quello che ha ispirato questo personaggio, l'ex NAR, Nucle armati rivoluzionari, quelli, per capirci, di Giusva Fioravanti, di Francesca Mambro, persone, re confesse, di svariati omicidi ma accusate e condannate per la strage di Bologna, cioè parliamo del terrorismo nero vero, E appunto, lui vicino a questo mondo, compagno di scuola e di avventure di questi personaggi qui, poi vicino anche alla banda della Magliana, è appunto condannato più volte per rapina, indultato tre volte, quindi gli hanno scontato cinque anni e sei mesi e quindi libero, che parla con il presidente della cooperativa rossa forse più importante di Roma, che non è un cittadino qualsiasi, ma è una persona che è stato condannato per omicidio nel 1980 e non per un fatto secondario, ma perché è accaduto che faceva l'impiegato di banca e faceva truffe con gli assegni con un balordo, il quale a un certo punto non vuole più farlo, lo vuole denunciare, lui gli dà appuntamento di notte, lo uccide con 34-35 coltellate inseguendolo mentre lui scappava quindi alla schiena, alla nuca e in tutto il corpo, mentre questo muore dissanguato, lui si procura una tannica di benzina, cosparge il suo corpo di benzina, sta per appiccare il fuoco quando purtroppo per lui passa una volante della polizia e lo prende, non si confessa, cerca di dare la colpa alla sua convivente, viene poi scoperto che mente, finalmente confessa e viene condannato in primo grado a 30 anni di galera, siamo nel 1980, questo signore ha la pensata geniale nel 1984 dopo abbiamo un minuto Marco abbiamo un minuto un minuto nell'84 di organizzare un convegno il 29 giugno dell'84 su quel convegno costruisce la sua fortuna perché in quel convegno partecipano le menti più illuminate della sinistra da Stefano Rodotà a Miriam Mafai da Giuliano Vassalli allora ministro della giustizia a tanti altri e costruisce diciamo il movimento per far associare in cooperative detenuti e poter permettere loro di lavorare e quindi di riabilitarsi la sua figura quindi è una figura positiva grazie a questo in appello li dimezzano la pena a 14 anni da 30 che ha preso in primo grado nel 1990 dieci anni dopo avere fatto quello che abbiamo raccontato prima è libero e piano piano la sua cooperativa prende tanti lavori al punto di arrivare come diceva Lirio a gestire 150 milioni di euro di fatturato si associa addirittura con il consorzio nazionale dei servizi che è il più grande consorzio delle coppe rosse diciamo di Bologna un colosso da un miliardo di euro di fatturato di cui la 29 giugno è il braccio su Roma nonché socio e dall'alto di questa potenza impenditoriale quando poi va su alle manno al governo di Roma si appoggia per avere i rapporti col centrodestra a Massimo Carminati e lo fa diventare socio quindi la scena che prima abbiamo visto è la scena del nero di mafia capitale che diventa socio formalmente assunto come lavoratore dipendente e socio della cooperativa rossa simbolo diciamo di una battaglia della sinistra come la riabilitazione dopo il carcere e soprattutto la cooperativa più potente alleata con le coppe bolognesi allora se una scena del genere ce l'avessero raccontata non ci avremmo creduto per cui a volte ci chiedono mafia capitale è di destra o di sinistra c'è tutto un capitolo dedicato a questo nel libro io dico che mafia capitale è di entrambi gli schieramenti nel senso che ci sono rapporti politici ad alto livello di buzzi con politici di sinistra rapporti ad alto livello di carminati con politici di destra però sicuramente quello che è importante è sottolineare che mafia capitale è la negazione dei valori della destra e dei valori della sinistra dei valori della destra perché non c'è niente di più contrario alla destra migliore diciamo che dovrebbe rappresentare i valori dell'ordine della legalità avere persone come Massimo carminati condannate più volte per rapina per dati molto gravi che sono libere perché appunto deve esistere un principio in base al quale la pena viene irrogata e poi viene scontata dall'altro lato è di destra il libero mercato il liberismo la concorrenza e qui ci sono turbative d'asta megagalattiche e contrario ai valori della sinistra perché non c'è niente di più diciamo contrario ai valori della solidarietà che lucrare come facevano loro sugli immigrati sui nomadi sulla sofferenza sociale quello che faceva di questa organizzazione è un'organizzazione potente però era proprio il fatto che erano bravissime ammetizzarsi e direi dei due a me questa è una mia valutazione quello che mi ha impressionato di più è la capacità di Salvatore Buzzi di ingannare di ingannare chiunque e quindi per chiudere secondo me il tradimento fatto ai valori di chi ha creduto in questa scommessa di riabilitazione della più grande cooperativa nella quale lavorano sicuramente dei detenuti che hanno cambiato la loro vita grazie a questa speranza questo tradimento secondo me è la cosa più brutta e più grave di questa storia va bene grazie tante leggete il libro grazie